Oggi qui abbiamo messo un punto fermo su quella che è l'alleanza generazionale fra le giovani generazioni, quelle a cui il Next Generation EU è rivolto e le generazioni più grandi, quelli che sono i protagonisti della spesa e che sono stati protagonisti dei progetti per questo fondo. È importante che questa alleanza tenga, è veramente il segreto perché i progetti che noi abbiamo ideato e che stiamo realizzando per il Paese abbiano poi dopo la prosecuzione opportuna anche dopo quelli che sono i sei anni stabiliti dalla durata del PNRR. La seconda sfida è quella che questi fondi, questi interventi, siano coordinati con la programmazione in corso, che vedrà la sua fine nel 2023, e la nuova programmazione 21-27. Da questo coordinamento, da questa alleanza, da questo accordo dipende la riuscita del Paese e forse anche un po' la riuscita del progetto europeo.